Ciao Fede, che bella la tua casetta oggi, complimenti, è veramente veramente carina, un pochino di terra in mezzo al rosa Ciao Stef, ho una domanda, cosa mi aspetta oggi? Perché questa casa non l'ho costruita qui, mi ci hai portato tu Mi hai detto tranquilla Fede, stai qui, poi tu te ne sei andato da un'altra parte, quindi cos'è che vuoi combinare Stef? Allora, se vuoi migliorartelo in questo momento puoi farlo, all'interno troverai delle ceste con degli oggetti incredibili Vabbè, della terra Se ne vuoi approfittare, approfittane pure Io ne metto e mi preparo Dai Stef, mi devi far esplodere, quindi non ha neanche senso che migliori la casa No, io ti consiglio di migliorartela, puoi fare la differenza per sopravvivere Ah, ottimo Vedi un po' cosa fare Io tappo tutto, mi faccio soprattutto un tetto, che secondo me è la cosa migliore Però è tutta terra, la terra è deboluccia, non serve a niente Allora, facciamo così Dimmi te che devo avere la casa di terra Perfetto Che brutta Allora, vediamo un po' E vediamo un pochettino Cosa fai nella vita, Ferre? Raccontaci un po' La youtuber La youtuber? Sì Eppure stai costruendo una casa in questo momento La youtuber che costruisce La youtuber che costruisce Sì, nei video di Minecraft E cerca di sopravvivere? Più che altro sto tappezzando una casa perché non è che la cosa sto costruendo Ok È ancora piena di buchi, Ferre, io ti consiglierei di sistemare Ma dove? Ah, qui, ecco, mi era sfuggita questa stanza Sì, ce ne sono anche altre Tanto si esplode, la terra non regge, cioè è inutile che mi fai fare queste robe Lo sappiamo tutti che non regge Ti consiglio, poi Vediamo un attimino cosa fare Allora Vai, Steph Io mi sono chiusa dentro Non ho idea di cosa possa succedere di cosa Steph ti ha per fare Io non so se questa cosa si poteva utilizzare o meno Però non mi sembra utilizzabile Quindi direi di andare di cose molto classiche Come questa Ok Vediamo un po' Facciamo E combini? Niente di che, Ferre Ah, che poi avevo anche un pochettino di terra Fammi ne prendo Cioè, terra Ah, ecco Opla Avevo tolto un blocco per aprire una cesta E mi è entrata l'acqua in casa Quindi, Steph, che stai combinando? Nulla, Ferre Perché i blocchi per tappare, ovviamente Se no non mi fanno aprire le ceste Puoi stare tranquilla Infatti vedo qui, in un buchino attraverso una cesta Che c'è tutta acqua No, mi sta entrando acqua in casa Oh, cavolo Proviamo a usare Proviamo a usare la pietra Che magari regge un po' di più della misera terra Allora Mi piove in casa Come mai, Ferre? Dai, hai buttato uno tsunami Allora, spiego un pochettino Ferre, piano piano, avrà delle case sempre migliori Io ogni volta, diciamo che Dovrò disturbarla in modi cattivi Distruggerle Che se la farò la corretta Ma ci sono stati dei tuoni? No, si è entrata l'acqua qui Ma perché si spacca dopo un po'? , non lo so Sarà colpa della terra, Ferre Eh sì No Allora, io sto adesso tappezzando Con la cobblestone Il problema è che i buchi È presente quando su COT Ti attaccano le altre navi E dopo un po' Hai talmente tanti danni alla nave Che non puoi più fare niente Ok Mio o meno sono in quella situazione E non so più che fare No, è tutta la gas Porca miseria Steph, non vedo più niente Qui dentro è notte Mi chiudo in una stanza Mi chiudo in una stanza Ok È la cosa migliore Rinunciamo all'altra parte della casa E pensiamo solo a salvarci in una stanzina Perché tutta la casa Non la posso salvare È molto saggia C'era talmente tanta acqua Che era buio Non vedevo più niente Steph, non si capiva nulla E non stavi affogando? Eh, no Perché comunque non si era riempita tutta d'acqua Ho capito Cioè, ce n'era tanta Quindi era difficile muoversi E in questa stanzina No, no, no Ma sei tu che mi spacchi i blocchi Eh? Sei tu che mi spacchi i blocchi È lui È lui invisibile Che sa dove sono Quindi non sono fulmini o altro Steph Brutto maledetto Ma mi hai ripito la casa di acqua Ma così non vale Dove sei brutto schifoso Ti ho visto col secchiello Ho visto il secchiello Che sta fluttuando Due ore per capirlo Cosa ci voleva capirlo? Non mi ho guardato Dove sei inventata Per respirare sta maledetta Non mi avrai mai Non ci sarà più un posto Dove sopravvivere Per Non mi avrai mai, Steph Devo uscire da qui Secondo me se mi nascondo In mezzo a un'altra cesta Può funzionare Guarda come cerca Forza, vai, esci Da qui voglio uscire Esci veloce Ma ormai, guarda Guarda il disastro Che hai combinato No, Steph Non si capiva Perché tu lo facevi sempre Quando ero girata E quindi Mentre tappavo un buco Ma ne appariva un altro Ho detto Magari sta tirando qualcosa Sta facendo delle esplosioni Perché io da dentro Non percepivo nulla Capito? Ho capito Ah, sono stata Teletrasportata Da un'altra parte Allora, adesso È una casa decisamente migliore Eh sì Però io sono nella parte In cui forse Si lanciano le trappole Perché? Perché sono in alto Oh, maledetta Vai via Eh, oh, tu mi hai Bazzata qua Come si esce? No, dall'altra No Abbiamo cambiato casa Sei un imbecile Perché non capisce Torniamo indietro, Steph Torniamo indietro Non c'è un tasto Per tornare indietro Perché non è previsto Che qualcuno possa essere Così poco intelligente Ma scusa, ho detto Magari è un bottone Per farti scendere giù No, volevo fare quella di prima Era troppo carina Eh, appunto Ma l'ho detto Era troppo carina No, ho sbagliato l'atto Taglio, regia Ma che bella questa casetta Questa è molto carina, Steph Non la distruggere Guarda che carina che è Complimenti Proprio una bella casetta Ma posso anche accendere E spegnere le luci È bellissimo Addirittura, Fere Eh sì Super tecnologico Buongiorno Steph, la stai preparando? Cosa? Cosa stai preparando? Buongiorno Cosa c'è? Le ceste sono vuote E quindi come posso cercare Di salvarmi io? Eh beh, questa volta È una signor casa, Fere Quindi è normale Eh vabbè, ma tanto Steph È quasi tutta fatta di vetro Pongo le luci Questa casa la vorrei Nella vitarella C'è anche la doccia È molto carina Mi chiudo nella doccia È molto molto carina Esatto È la cosa migliore Allora Io torno nella mia base segreta Dove però ogni volta Compare Fere Che quindi non è molto segreta E decido un po' Che cosa fare Allora Dato che Fere Questa piace molto Vorrei qualcosa Che distrugge Fere Ma non la casa Maledetto Mi sembra Un buon metodo Cosa ne pensate voi? Allora Per me non lo è per niente Steph Non lo è per niente Questo non dovrebbe distruggere troppo Dai Mi sembra Un buon metodo Secondo me può andar bene Allora Vediamo Facciamo Che ne mettiamo Uno qua Aiuto Che paura L'ho dentro la doccia chiusa E mi vedo sto robo Che mi flutto Ma queste non mi fanno niente Non mi calcolano Io ho chiuso dentro casa Dai perché mi hai fatto uscire? Non l'hanno vista? Ma dai ma siete dei cecchi Frutti cast Non mi vedranno mai Steph non provarei più a fare una cosa del genere Maledetto E qui Steph Ecco bravi Non mi fanno nulla Continua Continua Non mi avrete mai Dimmi che ti sei già reso Brutto scarso Si è già reso Si è reso Guarda Dai Steph Basta Io rientrerò sempre dentro a casa Sono più veloci di loro Sono tontissimi Ai 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 Non siete buoni a nulla Ne ho messo tre pure Ecco Così è finita E beh Questo è stato il modo in cui Fer è stata distrutta? Sì Davvero? E beh continui a farmi cadere dall'alto Che pretendi Che abbia vita infinita Ho capito Ma quelle gambine Fammi tornare da te Steph Aspetta Andiamo direttamente In the zone number three Fer Vieni 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 Ok Questa è la tua nuova casa Questo è il tuo nuovo posto Avevo già spaccato i vetri da prima Ok Perfetto Allora Questa è più una fattoria Che una casa no? Una casa gigante Di quella in campagna Una fattoria Ah però è redatta bene Oh la la Esci fuori da casa mia Steph Nessuno ti vuole vedere Va bene Ciao a dopo Questa è proprio una villettina di campagna Bellissima Ti piace questa? Tantissimo Mi piacciono tutte L'altra è più bella A parte la prima Esatto che era giustamente Solo per te la sera La seconda però esteticamente era più bella Ma anche questa non è male Guarda che è piena di cose tecnologiche Al piano di sopra Le porte scorrevoli Steph Qui tu entri da una stanza all'altra Con le porte scorrevoli Allora C'è pure la jacuzzi Steph Vorrei Davvero? Secondo me è la jacuzzi questa Sì Scherzi? E se vuoi venire a vedere? Ma è incredibile Vuoi venire a vedere? No Mi hai cacciato di casa prima Vabbè ti invito nella jacuzzi Steph Così la smetti di distruggere tutte E ci godiamo insieme questa casa no? Allora Ah è per quello che mi inviti? Boh non so comunque se sia una jacuzzi Ma di fatto c'è una vasca gigante Dove ti puoi fare il bagno Se riusciamo a fare una roba del genere Mi sto impegnando Devo essere sincero Cioè così tanto non mi impegnavo da un sacco di tempo nella vita Dai Steph non impegnarti Questa è davvero bella Allora Vediamo se può funzionare Io aspetto perché tanto che devo fare Eh sì Proverò comunque a difendermi Ma non c'è niente in sta casa Sto frugando un pochettino i mobili Magari qualcosa che mi possa essere utile Invece no Non c'è nulla Nulla? Però qui Qui c'è un passaggio segreto Davvero? Posso nascondermi da ste Ha trovato un passaggio segreto? Eh sì Com'è possibile questa cosa? Non lo so Non sapevo nulla riguardo Non riesco a scendere Ecco ce l'ho fatta Ok Ah no non è un passaggio segreto È semplicemente un'altra zona collegata della casa Speravo mi portasse in qualche passaggio segreto Invece no Qui dentro non c'è nulla Ma è tutto vuoto È tutto vuoto Questa casa non ha niente di utile Ok Steph che combini? Eh sto provando Allora vediamo se funziona Dai C'è qualcosa qui fuori? Ma è poi L'ho visto L'ho visto Cos'hai creato? Ma guarda che triste Sei pure fermato lì Non ha funzionato Aspetta Perché manca Eh certo Steph Cosa manca? Questa Non sei mai far funzionare qualcosa Torna dentro a casa tu Vediamo Quanto ne hai messo? Ti do una buona motivazione Ti metto un gas Così Se stai fuori casa Porca miseria Cose brutte accadranno Quindi devo aspettarmi la TNT da questo lato Attendo Steph Attentemente No vabbè Mannaggia Non è capace a far nulla Steph Con lui non funziona mai niente Un fail gigantesco Allora Scusate Tutto a posto Allora Signor gas È lei che mi distrae con i suoi versi strani Questa volta dovrebbe funzionare Funziona Vabbè Che triste Che cosa? L'esplosione Ma quanto è stata triste Ti hai spinto Hai spinto il carrello Tu Da quanto sei triste Cioè Io mi aspettavo Metta a casa Esplosa Esplosa Malapena un muro Che se voglio Mi metto a riparare da sola Ok Mi ha fatto arrabbiare Ok Vabbè Steph Dai Non c'era bisogno Di essere un po' Cioè Di essere così falliti No? Dovevi fare qualcosa di meglio Va bene Va bene Dove stai andando? Pieni sotto Pieni sotto è rotto Quindi possono entrare cose strane Guardalo maledetto Ma che triste Che sei Stai facendo la figura Ancora più Non lo so La vedi nel mobiletto? Sì Ma l'ho persa Ma può esplodere questa qui? Non lo so Però non potevo più metterne altre Allora Facciamo così Allora Io Adesso Me ne andrò Questo è un gioco Che facciamo io e te Ok? Pratic Che vuoi? Non puoi rovinare il gioco Lasciami in pace Non puoi Rovinare il gioco Certo Ah io metterò fuoco in tre punti Se tu riesci a spegnerli Dovei entrare dentro casa Stai leggermente fuori casa Se tu riesci a spegnerli Prima che si accendano le TNT Starai salva Ma è impossibile Li fai più lontani da me È impossibile Eh no ma non li metto vicini E poi come li spengo scusami Uno Colpeggoli Due E Tre Ma c'è l'allarme antincendio? Ma io non ho parole Te l'ho detto che è la casa tecnologica Guarda che poi qui parte l'acqua E la casa tecnologica Vabbè fuoco arrangiati Via Contento Così almeno la finiamo E passiamo la prossima casa Mamma mia Steffa E questo è stato brutto Eh Gli altri te la sei cavata bene Ma questo è stato Terribile Solo che ci avrei dovuto mettere due ore Per prepararlo bellissimo Capito? Ma scusa per non dire che non lo saprei utilizzare Era straordinario Allora cos'è sta roba? Uh Ah Chiaro Fede ma c'è una Cos'è la tua base adesso? Non lo so io non ci sono Portamili da te Ah ma perché ti ha dato due ore? Perché io torno sempre alla prima casa Sempre Ok Ma quella di terra negata ormai Ma questo è incredibile Ma come ci entro qui in mezzo? Ma è incredibile Ci metto 15 minuti Aspetta 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 che se no davvero questa tra dieci anni sta ancora qua Vai Grazie Bella È proprio una fortezza Proprio il lago di lava per proteggerti È assurdo Che dentro è molto bella Anche questa ha gli allarmi Dovrò vedere come attaccare Però ovviamente un'idea super fantastica Ma prima saluto gli abbonati Aspettando di vedere Night Accidenti Scusate Uh Che altrimenti poi non vediamo una ceppa Noi dicevo saluto gli abbonati di oggi Che sono FasterBK Matteo Sartori Game on play Sonia Vena E Maria Libera Furin Grazie mille per gli abbonati Io nel mentre stavo facendo le puzzette in bagno S'hai anche visto l'achievement Quindi almeno lo ammetto Ok Ok In realtà io non me ne ero accorto Quindi se non avessi detto Vabbè ma tutti se ne accorgono Quindi è meglio dirlo Non trovo più la mia casa Dai sta E per è invisibile Io non lo sopporto più Trovata Alleluia Tutto bene Quel che finisce bene Giusto? Più o meno Perché con te non finisce mai niente bene Aia Cosa hai fatto? I recinti sono elettrificati Cioè ti fai male da sola Fere? Ah non le recinti fuori da casa mia Sono uscita un attimo Allora prendiamo Cos'era quel brutto rumore? Non lo so Steph L'hai sentito solo tu Ok Spero che non ti succeda nulla di brutta Allora Io ti consiglio di entrare in casa Poi Vedi cosa fai E' un po' indietro Aspetta faccio tutto il giro Che stai facendo? Io non capisco Cioè? Non capisco cosa stai facendo Sei circondata da ragni Non li vedi? Ah ecco li Ma non possono arrivare qua E lo so infatti Io ti consiglio di entrare in casa Fere Ma non arrivano qua Fere io li sto per mettere nell'altra parte Quindi Aia Andrò a metterli qui Ti consiglierei di chiuderti Ma ci sono le recinzioni Che li fanno Li fanno esplodere Guarda Io li attiro qua Io il consiglio Le l'ho dato Adesso sono Ma sti qua stanno a morire da soli Te l'ho detto Che sono inutili Steph smettila Perché stai spaccando qui sopra? Ma che senso ha Se la casa la spacchi tu? Che senso ha Steph? Perché è l'invasione Dei ragni che arrivano da fuori Sì ma l'invasione Non la devi fare tu Infatti non la sto facendo Dovrebbero invadere da soli E se non ne sono capaci Vuol dire che è giusto Che schiattino Non che tu gli apri le strade E cosa sei? Loro cicerone Esatto Ma smettila Ok Questo è entrato dal bagno Vai 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 Bravo 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 Ma neanche così ce la fanno Steph è solo una figuraccia Questa è un'ottima strada Dagli tempo Dagli tempo Vedrai come ce la fanno E come se ce la fanno Oh isto State a schiattare a soli Ma ragni Ma cosa servite Nella vostra vita? Allora vi creo una stradina da qui Fede cosa sta facendo? Combattendo contro un ragno Per farti felice Così mi fa schiattare Oh Che bello Steph Ce l'hai fatta Ma rovini tutto Ce l'hai fatta Steph Che brutta persona Aia Oh cavolo Sono in mezzo ai ragni Sono in mezzo ai ragni Non mi seguono Ah perché giorno Non ci credo E qui non gliene frega nulla Non ci credo Non ci avevo fatto caso Io ho sempre la night vision attiva Quindi non me ne rendo conto Bravi fanciulli Vai Eccoli finalmente Ecco perché non l'attaccavano Ah ecco perché Steph Non sa fare mai nulla Ragazzi era pieno di lava Non vedevo se era giorno o notte Non mi ero reso conto Accidenti Sei felice adesso? Eh insomma Se voi rientro dentro la casa Rifacciamo la scenetta dai No Riportami dentro casa No esplodi No riportami dentro casa Vediamo se mi attaccano dentro la casa Io mi fermo così Ho fatto una figuraccia dopo l'altra Non sono stata abbastanza brava A fare gli spetti A fare diciamo che è l'unica cosa divertente Che comunque è schiatata un sacco di volte Quindi sotto quel punto di vista Mi sono divertito A priori Speriamo che questo video vi sia piaciuto Anche se Steph ha affidato un sacco Qua sotto come agli altri video Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao